Il Grand Sassos Science Institute è la dimostrazione che se si hanno idee chiare e anche visionarie come quella di istituire una sorta di seconda università in città, sia in grado di realizzare cose impensabili. È stato inaugurato oggi, rigorosamente in videoconferenza, l'anno accademico del Grand Sassos Science Institute, una realtà scientifica importantissima. A tracciare un bilancio è stato il rettore Eugenio Coccia. Abbiamo per esempio avuto risultati molto belli con Gunpowder, che è il nostro spin-off, che ha assunto un nuovo personale, lavora nel campo dei big data, intelligenza artificiale, Internet of Things. Poi abbiamo siglato un accordo con Tales Alina Space Italia per fare una fondazione, quindi questa sarà un'altra delle cose che nel 2022 prenderanno corpo. Inoltre stiamo preparando una serie di iniziative, un ecosistema dell'innovazione, di realizzare qui all'Aquila, con partner industriali e partner che vengono dal mondo della ricerca e dell'università, per realizzare un qualcosa che all'Aquila potrebbe creare veramente una sinergia fortissima, un ponte tra ricerca e impresa. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato, oltre ai saluti istituzionali del presidente Marsilio e del sindaco Biondi, in videocollegamento anche Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della ricerca. Il ministro ha parlato di un grandissimo investimento nella ricerca con il GSSI, dove si respira scienza e si cresce durante il proprio periodo formativo. Il ministro ha insistito molto sul ruolo e sul valore dei dottorati di ricerca, spiegando che il governo in tal senso sta facendo molto. Oltre ai grandi progetti internazionali, il legame con il territorio è sempre più forte e il GSSI si pone sempre a servizio della città, con grandi progetti come quello di Open Data e del Collegio di Merito Ferrante d'Aragona. Noi siamo stati protagonisti, insieme al Comune e all'Università dell'Aquila, del progetto della Fondazione Ferrante d'Aragona, che è un collegio di merito, un collegio diffuso al centro dell'Aquila che riutilizza il patrimonio immobiliare del Comune per far abitare al centro studenti, ricercatori, non solo del GSSI, ma appunto anche dell'Università, l'Accademia di Belle Arti, eccetera, del Conservatorio. Un altro progetto importante è stato questo dell'Open Data, per esempio, un portale che riguarda non solo la ricostruzione, ma anche l'Aquila in generale, con anche sensori, che saranno sensori ambientali. E quindi un contributo, devo dire, che ci sentiamo di fare e che ovviamente ci dà molto come ritorno.